Musica Elislein, forte e la migliore candidata, la segretaria del PD a Campobasso per sostenere il centro-sinistra e le comunali, critiche alla Melonia, al centro-destra, sul palco, tra gli altri, anche Lucia Annunziata. De Benedittis, fermeremo la fuga dei giovani, il candidato sindaco del centro-destra nel capoluogo incontra i ragazzi, il lavoro e la priorità abbiamo in programma incentivi alle imprese locali, ha detto. La città deve offrire qualcosa di buono anche per far tornare i tanti che negli anni sono andati via. La Rino, in festa per San Pardo, giornata clou dei festeggiamenti, stamattina la benedizione e la tradizionale sfilata dei carri con migliaia di persone, ieri sera la fiaccolata. Calamailo Schindler di Buenos Aires a Campobasso ha proiettato il docufilm sull'ex console che salvò la vita di 400 perseguitati politici. Lui stesso, presente all'incontro, ha raccontato la sua esperienza. Buona domenica, ben ritrovati con la nostra informazione per questo appuntamento delle 14. Partiamo con la politica. In primo piano la campagna elettorale con la visita in Molise della segretaria nazionale del PD, Ellie Schlein, ha fatto tappa a Campobasso per sostenere la coalizione di centro-sinistra alle elezioni comunali del capoluogo. Con lei anche i candidati del Partito Democratico alle elezioni europee. Pasquale Di Bello. Alla fine non è arrivata la pioggia, ma è arrivata la gente. Il comizio di Ellie Schlein a Campobasso, minacciato dal meteo e spostato per sicurezza al coperto e al riparo da un possibile bagno d'acqua, si è trasformato invece in un bagno di folla. Pubblico quindi delle grandi occasioni per ascoltare la segretaria nazionale del PD, arrivata nel capoluogo di regione a sostegno della candidata della coalizione progressista a sindaca di Campobasso, Maria Luisa Forte. Il centro-sinistra ci riprova e ripete quindi l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, fallita alle scorse regionali quando il centro-destra fece cappotto. A correre con i progressisti anche l'alleanza Verdi-Sinistra-Socialisti, Movimento per l'equità territoriale, battere le destre e le loro politiche, dice Schlein, questo che serve a Campobasso e all'Europa. Abbiamo la migliore candidata qui a Campobasso, è qui accanto a me, Maria Luisa Forte, voglio ringraziarla per la generosità con cui si sta spendendo per dare un buon governo a Campobasso, per mettere al centro i bisogni delle persone, a partire dal sociale, dalla cura, dalla sanità pubblica, a partire dalle opportunità di lavoro che servono per i giovani, perché dall'altra parte abbiamo una destra che è ossessionata di immigrazione ma non ha visto l'emigrazione, di tante ragazze e ragazzi che studiano col sacrificio loro e delle loro famiglie e che poi con i contratti così precari e con i salari così bassi sono costretti ad andare altrove per costruirsi un futuro. E noi vogliamo invece dare la possibilità di costruire un bel futuro anche qui a Campobasso e quindi sono io a ringraziare questa coalizione che si è riunita attorno a un programma condiviso e a una candidatura credibile. Quindi noi continuiamo a lavorare per l'unità, testardamente unitari perché vogliamo costruire una coalizione competitiva contro queste destre. Cavallo di battaglia della segretaria è la critica serrata al progetto di autonomia differenziata voluto dal governo Meloni. Nostro obiettivo naturalmente è fermare le riforme pericolose che la destra sta portando avanti. Veniamo da una bella manifestazione a Napoli organizzata dalla CGL, dalla Via Maestra, da tante associazioni a cui abbiamo partecipato anche noi per dire il nostro secco no all'autonomia differenziata. Un'autonomia differenziata fatta senza mettere nemmeno un euro perché questa destra vuole lasciare le diseguaglianze territoriali come stanno e il sud le ha già pagate fin troppo. Quindi noi vogliamo invertire invece questo meccanismo e riuscire a evitare che le regioni del sud rimangano indietro. Il governo di Giorgia Meloni sta facendo il contrario ma io dico ma non si è mai vista una sedicente patriota che vuole spaccare in due il paese. Insieme a Elislein sul palco anche i candidati alle elezioni europee nella circoscrizione sud da partire dalla molisana Anna Maria Becci e poi Jasmine Cristallo, Sandro Ruotolo e la capolista nella circoscrizione Lucia Annunziata. Se dobbiamo immaginare cosa può cambiare negli equilibri europei con una vittoria della destra credo che forse equilibri nuovi non sarebbero così felici. Faccio gli esempi appunto della questione dell'autonomia differenziata che sarebbe sicuramente poi abbiamo visto anche i numeri venendo qui, il Molise dovrebbe essere il posto probabilmente più colpito da questo però penso anche per esempio a tutta la questione aperta dell'agricoltura ci sono, l'agricoltura è diventato un grande tema secondo quello che ho visto io anche qui nel sud quindi ci sono due o tre temi di... e poi naturalmente la questione dell'assistenza medica ci sono due o tre cose che sicuramente con un cambio d'asse politico andrebbero peggio di prima. Una nota musicale per sottolineare il passaggio del PD da Fossati a Zucchero ad aprire le manifestazioni di partito un tempo era la canzone popolare, adesso è Diamante. Come cambiano i segretari? Così cambiano lo spartito e la musica. Dal centro-sinistra al centro-destra, sempre a Campobasso Aldo De Benedittis candidato alla carica di sindaco della città per la coalizione ha incontrato i giovani, De Benedittis ha ascoltato le loro richieste e ha promesso impegno per il mondo dei ragazzi. Sentiamo. Creare sogni, sviluppare ambizioni, alimentare passioni i giovani di Campobasso hanno chiesto essenzialmente questo al candidato sindaco per il centro-destra Aldo De Benedittis che li ha incontrati nella sede del candidato Salvatore Cola Giovanni e poi più luoghi di aggregazione, più infrastrutture sportive, attrezzate e moderne organizzazione di più eventi a loro dedicati. Insomma, i giovani di Campobasso chiedono di essere considerati e avere spazi in cui esprimersi ma ovviamente tutto parte da un unico assunto certo, i giovani non devono andare via da Campobasso e dal Molise e per questo il primo punto è il lavoro. Sicuramente i giovani chiedono il lavoro sono costretti ad andare via e noi questo lo dobbiamo evitare abbiamo nel programma degli incentivi e delle imprese tutte le aziende locali e quindi in modo che possono crearsi dei nuovi posti di lavoro e quindi i giovani dobbiamo farli rimanere qui con noi e dobbiamo anche tentare di far ritornare quelli che se ne sono andati. Io ho un esempio in famiglia, mia figlia lavora fuori, lavora a Roma quindi figuriamoci l'interesse comune di tutti i giovani che devono rimanere in questa città però questa città deve offrire qualcosa di buono per i giovani. Comune, Regione e Governo possono lavorare insieme ad un unico progetto per rilanciare l'occupazione giovanile dice De Beneditti, sei ragazzi. Io credo che bisogna incettivare le aziende che sono qui a Campobasso e ce ne sono veramente molte io sto girando per questa campagna elettorale ma veramente delle realtà imprenditoriali bellissime e quindi se noi aiutiamo questi imprenditori a crescere sicuramente si creeranno anche altri e nuovi posti di lavoro per i giovani e quindi li facciamo rimanere qui a Campobasso. E sempre il candidato del centro-destra interviene anche sulla riapertura della cattedrale di Campobasso in questo periodo di chiusura ferma ci siamo sentiti tutti più soli è venuta a mancare l'anima più nobile e profonda di Campobasso nulla però avviene mai per caso la riapertura resa possibile anche grazie al decisivo contributo della Regione spero possa segnare l'inizio del vero cambiamento per il capoluogo un simbolo di rinascita conclude dopo la fase di declino degli ultimi anni e da Campobasso ci spostiamo alle elezioni di termoli presentazione delle tre liste civiche a sostegno di Gio Mileti sono stati presentati anche i punti del programma elettorale dall'impegno alla difesa degli animali e all'ambiente passando per la sicurezza dei cittadini fino al turismo tanta la voglia di cambiare la città presentati i candidati delle tre liste civiche a sostegno di Gio Mileti sindaco tre le liste di riferimento in tutto 54 i candidati tanta la voglia di gettarsi in questa nuova sfida Mileti ha anche tratto un primo bilancio di questa campagna elettorale un riscontro positivo e un buon consenso ottenuto tanta la forza, il coraggio e la voglia di andare avanti per la metà finale molti presenti tra candidati e cittadini nella sede elettorale di Corso Umberto a Termoli il messaggio è comunque presentarsi presentarsi alla cittadinanza presentarsi a Termolesi tutte e tre liste certo non abbiamo convocato tra virgolette tutti e 54 i candidati ma abbiamo preso a campione i rappresentanti delle tre liste di riferimento e così insomma cominceranno a farsi conoscere a conoscersi in modo tale da poter interagire e continuare a lavorare sempre per l'elettorato e per il bene di Termoli da sempre e dall'inizio ho sostenuto che è la squadra che è vincente è la squadra che deve andare avanti io sono il presente le mie liste è composta da ragazzi, giovani e gente di voglia di tanta grande voglia e volontà e sono loro che ovviamente sono il viatico per poi arrivare a governare una città per il rinnovamento Mileti ha anche presentato con entusiasmo alcuni punti del programma elettorale attraverso il turismo riusciamo a coinvolgere e convogliare tutte le attività connesse parliamo se avete la voglia e soprattutto la pazienza di andare a leggere il programma di turismo industriale, turismo religioso turismo sportivo e turismo sociale turismo per gli anziani è un turismo che ci permette ci permetterà soprattutto di avere Termoli viva per il turismo per 365 giorni all'anno il Molise è tra le regioni dove si è registrato il minor ricorso al super bonus edilizio con 3.147 atti depositati al 30 aprile scorso l'incidenza percentuale di questi ultimi sul numero degli edifici residenziali esistenti che sono poco più di 107.000 è stata pari al 2,9% è quanto emerge da una elaborazione della CGA su dati Istat secondo l'associazione degli artigiani delle piccole imprese il super bonus sino ad ora si è comportato come un Robin Hood al contrario ha tolto ai poveri per dare ai ricchi con una spesa di oltre 122 miliardi osservato nei prossimi anni sarà molto difficile far quadrare i nostri conti pubblici pregiudicando la possibilità di reperire nuove risorse aggiuntive da destinare alla sanità pubblica l'editillizia sovvenzionata e per contrastare la povertà e l'esclusione sociale e adesso andiamo al Rino per la giornata clou dei festeggiamenti in onore di San Pardo e migliaia lungo le strade per la tradizionale sfilata dei carri dopo la benedizione benedizione al Rino per noi è andata Francesca Danversa Sono entrati nel vivo al Rino i festeggiamenti in onore del patrono San Pardo nella serata di ieri si è svolta la tradizionale processione dei carri addobbati con i caratteristici fiori di carta verso la chiesa di San Primiano dopo un momento di convivialità in tarda serata hanno fatto rientro della concattedrale seguiti dalle luci delle fiaccole una bellissima giornata di sole oggi qui al Rino per la festa del patrono San Pardo da pochi minuti si è svolta la benedizione qui davanti alla concattedrale è terminata una volta terminata la messa presieduta dal Monsignor Gianfranco De Luca e poi i carri hanno fatto la tipica processione per le vie del centro Sindaco Pino Puchetti oggi la festa in onore di San Pardo una festa sentita in paese è entrato nel vivo dei festeggiamenti già da ieri una festa che comunque unisce la comunità Sì è una diciamo la festa identitaria della nostra comunità per eccellenza quest'anno c'è anche insomma è capitato pure di domenica c'è tantissima gente è sempre c'è tanta emozione quando c'è soprattutto il 26 la processione al centro storico quindi ci teniamo tantissimo e stiamo facendo tante cose per poterla valorizzare e farla conoscere e farla diventare volano del nostro territorio promozione la nostra comunità Iolanda Giussi assessore alla cultura del comune di Larino una festa quella di San Pardo importante per i larinesi anche quelli che vengono da fuori perché tornano in paese per festeggiare un grande lavoro dietro di mesi beh assolutamente questa per i larinesi è la giornata più importante dell'anno e tornano anche dall'estero perché comunque la devozione al nostro padrono è davvero fortissima e negli anni è sempre più importante organizzare l'evento nel migliore dei modi questo ovviamente lo si fa grazie all'associazione dei carrieri l'associazione PIA al comitato feste e insieme abbiamo creato una tre giorni davvero bellissima di grande fede innanzitutto e anche di spettacolo sono molto amante delle mucche perché fin da piccola venivo a Larino quando ero piccola quindi conosco la festa fin da quando appunto avevo pochi anni e quindi mi piace venire cerco di fare tutto quello che si può per rispettare appunto il fatto di portare il santo poi le ossa e poi ancora la sambarda e così via perché lei non vive a Larino? no io non vivo sono giornalista ma vivo ci ho vissuto per 30 anni a Milano adesso sono a Rimini però insomma però rientro ogni volta per la festa da quando sono diventata intestataria del carro insieme a mio fratello me ne sto occupando e restiamo a Larino dalla notizia di reato all'archiviazione questo è il titolo dell'incontro che si è tenuto nella scuola di formazione della Camera Penale alla luce anche della riforma Cartabia diversi partecipanti che si sono collegati anche da remoto per assistere alla lezione del vice procuratore Guido Torricella sentiamo continuano le lezioni della scuola di formazione territoriale della Camera Penale di Larino nell'occasione è stato il vice procuratore di Larino il dottor Guido Torricella che ha tenuto una lezione dal titolo dalla notizia di reato all'archiviazione si è parlato proprio delle novità introdotte dalla riforma Cartabia le novità sono molteplici iniziando dalla iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato fino a tutta una serie di tempistiche meccanismi validi per accelerare il corso del procedimento c'è tutta la riforma Cartabia in effetti verte su una accelerazione dei tempi e riduzione dei tempi tecnici del procedimento e anche nel costituire dei meccanismi filtro per fare una maggiore selezione dei fascicoli poi destinati dalla fase delle indagini preliminari alla fase del dibattimento questo comporterà dovrebbe comportare e comporterà sicuramente un deconcessionamento dei tempi della giustizia una riduzione dei tempi della giustizia e un efficientismo che è proprio quello richiesto dagli obiettivi del PNRR con la riforma Cartabia si è detto soddisfatto il presidente della camera penale l'avvocato Roberto D'Aloisio la partecipazione ai webinar cresce di lezione in lezione una formazione continua che viene apprezzata anche da remoto possiamo già trarre un primo bilancio assolutamente positivo anche in ragione del fatto che numerosi avvocati di fuori foro fino alla zona di Pesaro in Abruzzo stanno partecipando ai nostri corsi dove trovano grande interesse un fatto fondamentale è che ci stiamo avvalendo oltre che di docenti di altissimo livello attendiamo l'arrivo nelle prossime elezioni del professor Manes un collegamento con il professor Coppi inviteremo anche Spanger che è già dato la propria disponibilità quindi grandi nomi del diritto processuale e sostanziale penale stiamo utilizzando anche risorse interne che stanno dando il meglio loro stessi la volta al scorso il giudice De Mutis oggi Guido Torricella la prossima volta e siamo in grande e trepitante attesa della dottoressa Vecchi ottimo giudice delle indagini preliminari del nostro foro dunque un bilancio un primo bilancio assolutamente positivo soprattutto perché vediamo che il numero dei partecipanti sta aumentando sempre più sempre più aumenta la curiosità e la voglia di informarsi sempre più e di formarsi da parte di avvocati sia giovani sia avvocati già di livello che intendono approfondire per un'ottima riforma del sistema penale perché io lo chiamo sistema il primo punto da cui partire è assolutamente una depenalizzazione siamo tra i paesi europei quello che ha il maggior numero di reati punibili attraverso appunto il processo penale e quindi un maggior numero di delitti questo sarebbe il primo punto reale per un'ottima riforma e uno snellimento del sistema penale successivamente bisogna incidere su un altro aspetto per il quale otteniamo molteplici condanne dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo che è appunto il sovraffollamento carcerario occorre una riforma dell'ordinamento penitenziario che incida su questo aspetto perché siamo una democrazia tra quelle volute non possiamo permetterci questa situazione e infine occorre incidere anche sul processo penale e a mio giudizio bisognerebbe incidere soprattutto sullo snellimento del dibattimento sull'acquisizione della prova in parte durante il dibattimento ma in parte anche come si faceva nel vecchio rito istruttorio e poi infine potenziare dove è possibile i riti alternativi Mancano risorse umane nei reparti dei carabinieri della Molise in particolare nel settore della forestale che ogni anno con l'approssimarsi della stagione estiva dovrà far fronte al fenomeno dei roghi è l'allarme lanciato da pianeta sindacale carabinieri durante il primo congresso regionale eletto anche il segretario molisano dell'associazione sentiamo Davide Gambardella La mancanza di personale tra i reparti dei carabinieri in Molise è una problematica che si riflette negli interventi sul territorio in special modo nel comparto della forestale ci sono pochi uomini a disposizione per far fronte alle emergenze una su tutte è quella degli incendi si è parlato di questo al primo congresso regionale di pianeta sindacale carabinieri un incontro che si è svolto a Castelpetroso in cui è stato eletto il segretario regionale dell'associazione Dopo due anni di percorso di coordinamento adesso andiamo a ufficializzare con un'assemblea democratica l'elezione del consiglio regionale i dirigenti del Molise che andranno a essere riferimento di tutti i carabinieri per la tutela per il riferimento sull'assistenza e per tutto quello che oggi i carabinieri devono fare e continuare a fare come riferimento dei cittadini per l'ordine e la sicurezza pubblica Il personale dell'arma rischia di lavorare sotto stress a causa della scarsità di risorse umane l'appello che viene lanciato all'incontro in provincia di Sernia e affinché si destinino maggiori unità al territorio molisano Lo stress che deriva dalla mancanza di personale che oggi è una problematica che affligge diciamo l'Italia e quindi i colleghi soffrono questo stress ma noi siamo qui ad aiutarli anche con l'aiuto psicologico Stiamo lavorando per venire incontro alle esigenze dei colleghi e il nostro sindacato si occupa a 360 gradi va incontro alle esigenze del personale quindi sia a livello personale che a livello logistico amministrativo di tutti i carabinieri della regione Molise La forestale qui diciamo che ha la sua importanza e quindi non vorrei essere ripetitivo ma il personale potrebbe essere il primo vero punto su cui battere per poter dare un sostegno ai cittadini che si aspettano da noi L'estate con gli incendi specialmente nella zona costiera del Molise abbiamo delle problematiche veramente veramente importanti il personale non riesce a sopperire da solo a quelli che sono la popolazione insomma lo vede fare la repertazione insomma siamo una specialità molto tecnica che ha bisogno di competenze e di personale comprendete che se sull'area di Termoli ci sono 150 incendi ci vogliono persone che danno una mano Si chiama Una vita per i diritti umani il docufilm di Enrico Blatti proiettato alla GIL di Campobasso l'incontro organizzato dalla Casa del Popolo di Campobasso ha avuto come ospite il protagonista del film il console Enrico Calamai attivo in Argentina e Cile durante le dittature militari e che ha salvato la vita più di 400 perseguitati dal regime argentino sentiamo Lo scenario del docufilm Una vita per i diritti umani del regista Enrico Blatti è proiettato al Palazzo GIL di Campobasso e incentrato su un preciso periodo storico la metà degli anni 70 in America Latina protagonista Enrico Calamai all'epoca giovane console inviato prima in Argentina poi in Cile poi di nuovo in Argentina periodo difficilissimo di negazione di ogni libertà in Cile c'è Pinochet in Argentina comandano i generali i governi occidentali tra cui l'Italia restano a guardare mentre la situazione si fa sempre più esplosiva e violenta chi non si volta dall'altra parte è proprio il giovane console è un film che racconta una storia incredibile una storia di grande coraggio di grande empatia di grande solidarietà è la storia di una persona che in un periodo buio durante gli anni della dittatura in America Latina e in Argentina ma anche in Cile prima non si è girato dall'altra parte non si è girato dall'altra parte ha teso la mano a chi chiedeva aiuto in consolato a Buenos Aires è stato l'unico è stato l'unica persona a fare questo tutti gli altri i suoi superiori i suoi funzionari si sono girati dall'altra parte è una grande lezione soprattutto per quello che succede ora in Europa nel Mediterraneo e nei paesi limitrofili nel docufilm per un incontro organizzato dalla Casa del Popolo di Campobasso sono tante le testimonianze che ricordano le persecuzioni politiche le sparizioni di persone scomode le violenze l'indifferenza del mondo un passato che però si ripropone ogni volta che siamo indifferenti alle sofferenze degli altri precise Enrico Calamai che con la sua capacità di non guardare altrove ha salvato la vita più di 400 perseguitati dal regime militare argentino Sì purtroppo nel mondo la desaparizione che è la strategia centrale della feroce dittatura militare argentina continua a esistere in particolare si riproduce con i migranti i migranti che sono in fuga per la vita che vengono da paesi da noi occidenti sfruttati e spesso anche da un punto di vista ambientale devastati che non hanno altra soluzione che la fuga e che noi però non vogliamo ricevere perché siamo in un sistema neoliberista in cui chi arriva da fuori comporta degli oneri di bilancio che invece si vogliono risparmiare allora quello che facciamo è farli non farli arrivare cioè farli scomparire sempre più a sud la Libia il Niger il nulla mediatico in cui la loro morte non causa non disturba la quiete dell'opinione pubblica come succedeva a Buenos Aires con i ragazzi che sparivano e di cui non sapeva più nulla la gente non sa la gente non si preoccupa non si rende conto o non vuol rendersi conto che siamo in democrazia e che quindi i responsabili veri di ciò che i nostri governi fanno siamo noi stessi domani pomeriggio alle 16 nell'aula adriatico della sede di Termoli dell'università si terrà l'evento intitolato una giornata di memoria e prospettive dedicato al ricordo di Mario Massimo Petrone stimato docente e pioniere dell'informatica molissana al termine dell'incontro sarà inaugurata la nuova aula destinata al corso di laurea informatica intitolata proprio dal professore Petrone come tributo permanente al suo impegno alla sua passione e dedizione per l'informatica nell'anno del turismo delle radici nel cui progetto finanziato con i fondi del PNRR rientrano anche numerosi comuni del Molise in piazza a Scandeberg a Porto Cannone si è tenuto un evento molto partecipato sulle minoranze linguistiche su come l'etnia in particolare quella al Bresce croata concentrate nel territorio regionale del Basso Molise conservino ancora gelosamente il loro dialetto e le tradizioni secolari sentiamo Francesco Di Giacomo Una sinergia vincente quella tra amministrazione comunale e associazioni che operano nel sociale confermata anche ieri in occasione dell'evento che ha visto una larga partecipazione oltre che di diverse autorità politiche anche del Lions Club di Termoli si è discusso infatti di turismo delle radici o turismo di ritorno che dir si voglia applicato la presenza di tutta una cultura quella a Porto Cannone ad esempio che si spera possa suscitare la curiosità di riscoprire le proprie origini in tutti coloro i quali fossero ancora legati alla cultura di appartenenza molti ospiti è un solo obiettivo comune quello di evidenziare come la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale attraverso la promozione di nuove forme di turismo costituisca una concreta opportunità di sviluppo economico per il nostro territorio Noi quest'anno abbiamo realizzato diversi service che si sono concretizzati alcuni in attività di donazioni e servizi a favore di persone meno fortunate di noi e altri invece in attività di sensibilizzazione che reputo non meno importanti degli altri con questo noi riprendiamo le attività e questa volta nell'intento di portare di porre l'attenzione sulle antiche tradizioni legate al territorio e alle tipicità locali in particolare per quanto riguarda le minoranze linguistiche del nostro territorio torno a Portocannone dopo tanti anni che lo frequento e la frequento il paese la scena delle carresi torno per parlare però di minoranze linguistiche dal punto di vista degli studi antropologici sicuramente con un occhio alle migrazioni del passato e del presente questo è un territorio che racconta un sedimento di migrazione antica e che in realtà ci racconta quanto i territori non sono stati mai chiusi in se stessi ma sempre aperti all'incontro allo scambio culturale attraverso appunto i corridoi di mare più o meno tristemente attraversati l'altra cosa che mi pare interessante invece dal punto di vista dell'altro insegnamento quello dell'antropologia dei patrimoni che insegno ugualmente a lettere beni culturali è quanto questo sedimento diciamo delle lingue di minoranza rappresenti un valore intrinseco legato al patrimonio delle comunità dovremmo ricordarci che le minoranze linguistiche sono tutelate dalla nostra Costituzione in Italia ne sono 12 in Molise ne sono 2 perché c'è una minoranza croata e un'altra albanese e dovremmo anche ricordare un'altra cosa che raccontare quello che che la vera essenza di una comunità come questa oggi siamo a Porto Canone ma potete raccontarvi anche di Montecilfone potete raccontarvi di Acquaviva significa ritornare all'essenza di un popolo all'origine di un popolo ecco quindi l'identità da una parte dall'altra parte il valore culturale di questa particolarità che noi abbiamo e abbiamo la fortuna di avere ovviamente l'attività di un'amministrazione in buona parte deve essere incentrato sull'attività culturale in paesi come i nostri con le minoranze linguistiche devono essere quella risorsa in più per far crescere una comunità ovviamente all'interno abbiamo questa lingua di minoranza linguistica che viene ancora parlata a Porto Canone bene in molte generazioni mi auguro che in futuro riusciamo a trasferirla anche alle nostre future generazioni si sta lavorando in questa direzione un po' con gli sportelli linguistici un po' all'interno delle scuole ognuno cerca di fare del suo però è un fiore all'occhiello che dobbiamo cercare di mantenere il più a lungo possibile presentata ad Isernia la Green Tech Academy un innovativo programma di formazione che ha l'obiettivo di favorire sviluppo occupazionale formando professionisti nei settori termoidraulico delle energie rinnovabili e dell'acqua idea che nasce dal fabbisogno registrato sul territorio di specifiche figure professionali il progetto finanziato dalla regione Molise dall'autorità urbana Isernia perché Miranda si articolerà in sei corsi formativi professionalizzanti ai quali si potrà accedere mediante avviso pubblico ai partecipanti disoccupati o inoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni saranno riconosciute una piccola indennità di frequenza e opportunità di tirocinio nelle aziende locali leader del settore che sono partner del progetto ed ora andiamo al circolo del tennis di Campobasso dove è stato presentato il libro La Voce del Sangue di Letizia Jacqueline De Cola sentiamo Enzo Luongo La Voce del Sangue è il racconto autentico e sofferto di oltre mezzo secolo di vita che nasce dal bisogno dell'autrice di rimettere insieme i pezzi della propria storia per poter ricostruire la propria serenità una sorta di autopsicoterapia un percorso di consapevolezza attraverso il dolore e di riflessione sul significato profondo di essere madre per poter diventare finalmente adulta il libro La Voce del Sangue è uscito da pochi giorni l'autrice e la professoressa campobassana Letizia Jacqueline De Cola che lo ha presentato con un incontro al circolo tennis del capoluogo con lei per l'occasione c'erano la giornalista Michela Marcaccio e lo psichiatra Nicola Benditelli è necessario raccontare il dolore per sottrarsi al suo dominio l'autrice parte da questa frase che è di una dottoressa americana questo libro ha spiegato inizialmente non era stato scritto per essere pubblicato poi facendolo leggere ad amiche e amici ho cambiato idea dopo che tutti commossi da quel racconto mi hanno incoraggiato a renderlo pubblico perché la storia della mia vita potesse essere utile ad altre persone il coraggio di raccontarsi è al centro dunque di questo lavoro ci sono tanti eventi difficili che hanno segnato la vita dell'autrice c'è il dolore il trauma si parte da un abbandono poi un lutto le difficoltà nel diventare madre la depressione ora con la pubblicazione della voce del sangue un percorso arriva a compimento il mio cerchio si chiude qui finalmente conclude l'autrice grande partecipazione ad esernia per le gare di biliardo nel quinto memorial dedicato a Carmine Duva ben 128 i partecipanti per questa edizione che si è tenuta nel capoluogo di provincia sentiamo si sono concluse con grande soddisfazione dagli organizzatori le gare del memorial Carmine Duva organizzate a esernia dall'accademia del biliardo di Lorenzo Ribera finali ricche di patos tra Angelo Triunfo di Foggia che si è giudicato il primo posto e Pasquale D'Agostino di Napoli che si è piazzato in seconda posizione tra gli atleti professionisti che hanno partecipato alla quinta edizione Carlo Diomeagliuta Rossano Rossetti e Pasquale D'Agostino diciamo che è andata anche oltre le aspettative ci sono stati diversi atleti professionisti di tutto il territorio di tutto il territorio nazionale diciamo che siamo molto soddisfatti anche dei piazzati dei nostri atleti cito Carlo Ferretti e Michele Di Pietrantonio che sono arrivati tra i primi otto atleti gara a 128 atleti su tutto il territorio nazionale una grande soddisfazione per il CSP e io che sono il loro istruttore il Memorial giunto alla sua quinta edizione è dedicato a Carmine Duva amato professionista e giocatore di Serna ha deceduto in giovanità ad omaggiarlo sono stati 128 giocatori provenienti da tutta Italia Carmine diciamo pure lui Buonanime è stato un mio allievo aveva vinto anche una gara nazionale e varie gare interregionali purtroppo la sorte ha voluto chiamarlo prima ma noi lo ricordiamo con lo sport che a lui piaceva tanto e in chiusura vi ricordo che oggi pomeriggio a Campobasso dopo sei anni di chiusura per lavori di ristrutturazione riapre la cattedrale e trasmetteremo in diretta tutta la funzione religiosa a partire dalle 17.45 sul nostro canale 18 e questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi e buona giornata buona domenica grazie per la visione